Sono Bernardo Pellegrini, sono pilota dell'HT Powertrain. Siamo a Varano, seduto di Varano per la terza prova del campionato Formula X. Vi porto a fare un giro con me sul circuito di Varano perché l'autore oggi è una giornata torrida e di conseguenza siamo riusciti comunque a mettere la macchina davanti che è stato di buono auspicio anche poi per Gara 1. Quindi arriviamo ora all'inizio del tracciato, ecco questa è la chicane che mi mette sul rettilineo, il rettilineo che inseriamo tutte le marce fino alla sesta, chiaramente abbiamo dei rapporti corti della pista abbastanza corta. Arriviamo alla prima staccata, cerchiamo di avere la macchina più dritta possibile per la chicane che è un sinistro a destra che affrontiamo in terza marcia. Torniamo sul gas, mettiamo fino alla quinta marcia su questo primo rettilineo e prima della curva parabolica che torniamo a fare in seconda marcia. Anche qui dobbiamo tenere una linea abbastanza pulita, la macchina spesso scoda, arriviamo alla prima chicane lenta che è di seconda marcia, quindi frenata dalla quinta passiamo alla seconda, ecco le marce che inseriamo dentro e qui facciamo un tutto pieno in quinta marcia, cioè facciamo la chicane veloce con la massima velocità possibile, non alziamo mai il piede del gas, sfruttiamo tutta la pista e ci portiamo alla curva X. Dalla quinta passiamo alla quarta, dalla sesta passiamo alla quarta, usiamo tutta la pista anche un po' esterna. Andiamo al ferro di cavallo che affrontiamo in terza marcia, manteniamo la terza marcia, stando attenti perché lì è sempre molto scivolosa e ci mettiamo sulla chicane che mette nel dritto con la macchina più dritta possibile per mettere giù le marce fino alla sesta marcia. Un giro con me, l'abbiamo fatto in 1-4 netti e diciamo che ci ha favorito per la Poli. Grazie mille a tutti.